Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate sul mio canale. Oggi parliamo dei nomi collettivi, perché in un sondaggio che ho pubblicato qualche giorno fa sulla community del canale vi ho chiesto quale video volevate vedere prima e la maggior parte di voi ha votato per questo argomento e quindi parliamo di questo. Che cos'è un nome collettivo? Un nome collettivo è un nome che al singolare denota un insieme di entità o individui, rappresenta cioè un'idea di collettività. Nel video di oggi vedremo alcuni nomi collettivi che sono molto utilizzati nella lingua di tutti i giorni e nelle conversazioni. Allora, il nome collettivo più usato è senza dubbio quello che si riferisce a un gruppo di persone, che è folla. Una folla. Una folla è un gruppo numeroso di persone. Da folla poi abbiamo anche l'aggettivo affollato, un posto molto affollato è un posto dove ci sono tante persone. Poi, un gruppo di amici è una comitiva, una comitiva di amici. Molti ragazzi escono in comitiva, cioè con il loro gruppo di amici. La parola comitiva può anche essere utilizzata per descrivere un gruppo di turisti o più in generale di persone che viaggiano insieme. Un gruppo di studenti è una classe. Questa parola classe fa riferimento al luogo fisico e fa riferimento anche al gruppo di studenti. Quindi noi possiamo dire le classi del quinto liceo sono andate in gita. Per gli studenti della scuola elementare e della scuola media si usa la parola scolaresca. La scolaresca è partita in gita. Quindi una scolaresca è un gruppo di scolari, un gruppo di alunni. E si usa per appunto gli studenti delle elementari e delle medie, che appunto noi non chiamiamo studenti, ma chiamiamo alunni. Un gruppo di persone che lavora in un'azienda forma il personale di un'azienda, quindi il personale, tutte le persone che lavorano per un'azienda. L'insieme di persone che lavora su un aereo o su una nave è chiamato equipaggio, l'equipaggio della nave, l'equipaggio dell'aereo. Tutte le persone che lavorano a bordo, della nave o dell'aereo. Passiamo ora agli animali. Ci sono alcune parole che sono specifiche ad alcuni animali, come per esempio un gruppo di lupi è un branco di lupi. Anche se la parola branco si può usare più in generale per riferirsi a gruppi di animali, però nello specifico un branco è un branco di lupi. Un gruppo di mucche o un gruppo di buoi è una mandria. Un gruppo di uccelli è uno stormo. Uno stormo. Un gruppo di pesci è un banco di pesci. Un banco di pesci. Un gruppo di pecore è un greggie. Un greggie. Un gruppo di pinguini è una colonia. Una colonia di pinguini. Un gruppo di api è uno sciame. Questa parola sciame può anche essere usata per riferirsi a gruppi di insetti in generale. Rimanendo sempre in tema natura, Un insieme di piante di rose è un roseto. Un insieme di pini è una pineta. Un insieme di alberi da frutto è un frutteto. Un insieme di foglie, per esempio per terra ci sono tante foglie, Quello è un fogliame. Un insieme di isole è un arcipelago. Veniamo ora a delle cose, a degli oggetti. Un insieme di fiori da regalare Un insieme di fiori è un mazzo di fiori. Un gruppo di navi e a un gruppo di aerei di una stessa compagnia, per esempio. La caratteristica fondamentale che dovete tenere a mente è che tutte queste parole e i nomi collettivi in generale sono singolari. Quindi il verbo nelle frasi deve essere al singolare. Tutto al singolare. Queste sono le parole di oggi, spero non siano troppe e un esercizio che potete fare con queste parole per memorizzarle meglio è scrivere delle frasi. Fatemi sapere nei commenti qui sotto se avete imparato delle parole nuove e se sì, quali sono queste parole nuove che avete imparato. Io vi ringrazio per aver guardato questo video e noi ci vediamo nel prossimo, come sempre. A presto, ciao!